Voglio essere chiaro, i comuni non possono essere la cassa dello Stato se da una parte devono anticipare i costi per il funzionamento dei servizi statali e dall'altra tagliare gli assegni di sostegno all'affitto, peraltro senza certezze sui rimborsi. Dobbiamo ridisegnare l'assetto istituzionale del nostro ordinamento, eliminando inutili duplicazioni e sovrapposizioni in view 8.